Ciao, ciao, buongiorno da Marco e da Satori, rendersi conto. Allora prosegue il nostro contributo per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Ora Satori rendersi conto ha, come dire, anche l'obbligo per il motivo per cui è nato di sollecitare quelli che sono i cambiamenti, di dare modo a più persone possibili di scoprire se ci sono delle possibilità per ognuno di trasformare quella che magari è una vita che non riesce più a dare gli stimoli o comunque che non è più in linea con quello che nel momento è una vita. Nel frattempo come persone, come anime e anche come professionisti, come lavoratori siamo diventati. Per quanto mi riguarda voglio portare l'attenzione velocemente su che cosa sta cambiando. Sicuramente sta cambiando molto dentro di noi. E allora così volevo prendere spunto da una notizia interessante che devo dire mi ha molto colpito e cioè che autorevoli persone nell'ambito medico che riguarda soprattutto le malattie del cuore, quindi in particolare gli infarti, e quindi le crisi importanti serie dell'arresto del mio cardio del cuore, hanno stilato qualche giorno fa un resoconto attraverso il quale si nota che l'incidenza di persone che si recavano in ambito di soccorso di vario genere in preda a quello che poteva essere un infarto conclamato o un semplice sintomo, sono diminuite del 60%. Ora, questo è un dato che sicuramente ci conforta perché vuol dire che ci sono meno persone che arrivano a stare fortemente male, ma è anche un dato che mi ha fatto riflettere e quindi condivido con voi questa riflessione sulla possibilità che c'è, che forse non abbiamo valutato in passato, di vivere con meno stress nei confronti del nostro povero cuoricino, che sì, è vero, ci deve spingere il sangue all'interno di tutto il corpo, deve creare le possibilità di scambio di ossigeno con i polmoni, insomma fa un lavorone, e spesso non ci pensiamo, fa un lavorone quotidiano, giornaliero, ora per ora, minuto per minuto, noi ci alziamo la mattina e diamo per scontato che il cuore stia lì, che batte magari da anni, da decenni, per alcuni magari da quasi un secolo, no? Quindi un organo molto importante, un organo che come significati, che è ciò che diciamo più mi riguarda nell'ambito di Satori, nell'ambito della mia professione, ha a che fare con il coraggio, cuore, core, coraggio, e ha a che fare anche con l'amore, quindi con il quarto chakra e quindi con la possibilità di interagire con se stessi, quindi amare se stessi e aprirsi quindi agli altri, amare gli altri. Ora questo è molto importante perché in questa occasione, stando diciamo in maniera un po' costretta, in una situazione di fermo, no? Chi più, chi meno, possiamo riflettere su quanto per esempio ci stiamo dando amore, su quanto ne abbiamo dato alla nostra persona e su quanto invece abbiamo aderito a una serie di modelli e di comportamenti sociali, culturali, che tutto sommato non sono proprio in linea con noi e sicuramente non sono in linea con il motivo per il quale un essere umano viene al mondo. Quindi vi invito a riflettere su questo, ma soprattutto vi invito a scrivere o a inviare delle email o a scrivere dei commenti o perché no a girare anche dei piccoli video come questo, dove magari ci raccontate, se avete voglia, che cosa intendete fare dopo. Cioè quando sarà finita quella che noi adesso stiamo chiamando emergenza, questa situazione di stallo che ovviamente porterà dei grandi cambiamenti e sicuramente delle problematiche importanti, soprattutto di carattere economico, cosa intendete fare? Cioè quali saranno le modifiche che andrete ad apportare alla vostra vita personale, magari a quella dei vostri cari, per vivere meglio. Quindi cosa cambierete e in che modo lo cambierete? Sarebbe interessante scambiare queste informazioni anche perché potrebbero essere dei suggerimenti per gli altri. Io e Andrea ci impegniamo nel diffondere questo e quindi vi ringrazio di questa breve attenzione. Adesso vado a fare la spesa e rientro perché come tutti sto cercando e ho l'obbligo morale e etico di rispettare quelle che sono le condizioni per evitare che tutto questo si diffonda ancora. Quello che invece dobbiamo diffondere è la nostra voglia di cambiare e di andare verso una vita più a misura d'uomo, nel rispetto di ognuno di noi. Ciao a tutti, grazie dell'attenzione, seguite qui sotto le indicazioni se volete fare qualcosa con noi e alla prossima. Vi ricordo che venerdì alle 18.30 ci sarà una nuova diretta con me e Andrea. Ciao, grazie.